hai mai ricevuto un no per un featuring? chi? se puoi dire? no si noiz e tacci sui hai visto tipo l'intervista a liga bue ma vaffanculo dai noiz ma vaffanculo aspetta va detto non è un no tipo non te lo faccio è tipo no sai in questo periodo sono un po' un picciato e no no noiz vaffanculo